Ciao, sono Mario, ho 9 anni e da grande voglio fare l'inventore. Voglio inventare una serie di magliette, scarpe, però no, tutto voglio inventare. La mia marca è Five. Allora, vi saluto, ciao. Andrea, anche io la YouTube. Eh? Tu l'hai stanzato? Mi chiamo Rebecca, ho 8 anni e mezzo e da grande vorrei fare l'estetista. Lavorare, fare, come? Stare insieme. Noemi, ho 7 anni e mezzo e da grande voglio fare la cantante. Dino D'Angelo. Mi chiamo Antonio, da YouTuber. Mi chiamo Chiara, ho 11 anni e mezzo e da grande voglio fare la versione. Perché mi piacciono gli animali e li voglio curare. Mi chiamo Ginevra, ho 12 anni e da grande voglio fare la veterinaria. Mi chiamo Gabriele, 7 e mezzo. Vorrei fare l'attore. Polla di fantascienza. Ciao a tutti, sono Simone, ho 6 anni. Da grande voglio fare il militare. Perché pure mio padre l'ha fatto. Ciao, mi chiamo Viviana, ho 6 anni e da grande voglio fare la poliziotta. Antonio. Quanti anni hai? Sette. Cascio. Mi chiamo Martina, ho 7 anni e mezzo e da grande voglio fare l'attrice. Ciao, io sono Vincenzo Guardacione, ho 11 anni. Io sono un bambino che ha fatto delle riprese. Comunque, io so tutte le capitali del mondo. Sono intelligente, mi piace il cibo e altre cose come videogiochi. Io questa ripresa è stata bella. Pure le tartarughe. Comunque, scusatemi. Quindi, un parecchi grazie. Pure nel mio canale di YouTube e anche quello di mio padre. Ciao. Francesco Manuel. Farò il musicista perché suono già il piano e la batteria. Ciao, sono Cielo Capitano, ho 12 anni. Io da grande voglio fare l'ingegnere automobilistico. 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 Che cos'è la mia vita? Il mio hobby è correre. Rossella. Sono indecisa fra due lavori, la stilista e la ballerina. E la stilista in un grande salone di bellezza. Francesca. Quanti anni hai? 10. Cosa vuoi fare da grande? La ballerina. Perché mi piace tanto ballare. Ciao. Pia. Mi chiamo Giorgio e ho 6 anni. Electricista. Giocare con mio cugino collega. Vincenzo. Il chirurgo plastico. Perché voglio prendere i soldi. Comprando macchine e ville. Raffaella. 11. Niente. Voglio fare la maestra. Arianna. No. La youtuber. Speria. Voglio fare la insegnante di ballerina e la insegnante di pattinaggio. Chiara. Nove. L'estetista. Il ballerino. Perché? Mi piace. Francesca. È a novembre 10. No, lo voglio fare ma non lo so. Perché non lo so? Devo pensare. 체가いきi dalla amia economia. Avevi. 승alui. Giara. Comunque. Comunque. Forrestre. Grazie a tutti.